Il campo di alta pressione che da alcuni giorni insiste sulla nostra regione sta subendo un cedimento sul suo bordo occidentale a causa della presenza di un vortice depressionario in prossimità dell'Algeria, depressione che convoglia aria mite da sud che trasporta polvere dal deserto che stazionando in quota fa assumere al cielo una colorazione lattiginosa. Nelle prossime ore le correnti tenderanno ad assumere una componente sempre più orientale, sintomo dello spostamento verso Levante del vortice ciclonico. Intanto sull'est europeo è presente un nucleo di aria molto fredda, il quale nel corso di questo fine settimana interesserà marginalmente la nostra regione. Ne conseguirà una vistosa diminuzione delle temperature con moderata instabilità, ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Sabato 19 marzo, condizioni di cielo molto nuvoloso, sognatamente sul cilento centro-meridionale, con associate precipitazioni di debole e moderate intensità. Nevicate in montagne inizialmente al di sopra dei 1.400-1.500 metri, ma con limite in calo fin sui 1.000 metri entro la serata. Temperature insensibili e diminuzione dal pomeriggio. Venti moderati da est-nord-est e mare molto mosso a largo. Domenica 20, condizioni di tempo instabile con addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, dove sono previste precipitazioni, nevose al di sopra degli 800 metri. Meno interessate dai fenomeni le aree costiere. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti moderati da nord-est con rinforzi in mare aperto e sui crinali dell'Appennino. Mare mosso. Lunedì e martedì insisteranno correnti fredde da nord-est con venti tra moderati e forti, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Una condizione meteo che, almeno sotto il profilo termico, assumerà caratteristiche invernali. Per una ripresa delle temperature bisognerà attendere la giornata di mercoledì, quando la spinta dell'alta pressione da ovest ricaccerà il freddo verso l'est europeo. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.